bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video la grande crisi dell'euro come valore come moneta e il rapporto tra euro dollaro che in realtà ragazzi ha un trend un orientamento un andamento che è estremamente estremamente pericoloso che cosa sta succedendo i dati ieri anche usciti sulla previsione di crescita dell'europa non sono tanto floridi nei prossimi anni infatti è prevista ancora un tasso di inflazione che è estremamente pronunciato potremmo dire così ragazzi proprio ieri la BCE ha rivisto l'outlook economico e ha innalzato sia le previsioni per quest'anno che 2023 quelle che vedete in rosso sono tutte rialzate quindi anche 2024 inflazione oltre il 3% per quanto riguarda l'Europa ma non è solo questo che un po' spaventa ragazzi quanto l'economic growth quindi la crescita economica 2023 sostanzialmente più bassa si avvicina alla recessione e 2024 e 2025 prevista in diminuzione rispetto alle precedenti previsioni ma sostanzialmente anche non in recessione ma quasi allora c'è anche un'analisi da fare sul grafico del euro contro il dollaro e l'analisi di quelli che sono i cicli veramente lunghi di euro dollaro per capire un po' come in effetti la nostra moneta dell'euro ha avuto anni d'oro negli anni precedenti infatti ci sposteremo indietro di 20 anni e andremo man mano a vedere quello che è successo facendo l'analisi dei cicli e di quello che sono le previsioni per i prossimi anni perché i prossimi anni relativi all'euro se la ciclica ha ragione se questa centratura è giusta e la vedremo oggi non sono per niente belli ragazzi e soprattutto ci danno anche un'idea di quello che può avvenire e di quello che dovremmo anche fare forse il caso di sguicciare buona parte dei nostri sparmi sul dollarone che di tu e tutti parlano insomma ma poi alla fine non scende mai iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e su con i mi piace ragazzi mi aiutate un video un po' diverso dal solito fatemi sapere anche che cosa ne pensate se vi piace allora ragazzi brevemente per chi ancora non conosce la struttura dei cicli cicli di borsa up nella prima parte down nella seconda parte tutte le cose cicliche nel mondo seguono questo orientamento a proposito ho dato un taglio al capello per chi di voi mi vede oggi sono sempre Mauro sono sempre io ma con un taglio di capelli diversi insomma che ho stato va bene allora detto questo ragazzi l'analisi ciclica nella struttura ciclica di qualsiasi cosa esiste nel sistema economico abbiamo una fase rialzista e poi una fase ribassista la struttura nell'analisi ciclica ci indica anche come per esempio un prodotto una economia un asset o qualsiasi indicatore o di macroeconomia può trovarsi in un dato periodo di tempo quindi una fase iniziale che sostanzialmente la fase di app quindi di hype immaginate anche una nuova tecnologia eccetera per esempio la fase di hype dello sviluppo del nuovo iphone di apple e poi piano 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 la maturità con in sostanza l'appiattimento della curva e ancora non abbiamo visto se ci sarà un declino magari anche di questo smartphone tutte le strutture cicliche seguono questo andamento andiamo a vedere che cos'è sta facendo l'andamento del euro contro la moneta principale la sua rivale principale cioè il dollaro ragazzi questo è il grafico che inizia dal 2020 allora siamo tornati indietro nel tempo qui siamo nella fase di lancio dell'euro il grande signor prodi con bicicletta e mortarella andava in giro che di voi si ricorda la famosa satira delle gustanti quando andavano in giro l'ex presidente allora andava in giro e diceva l'euro 1936 lire bla 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 siamo indietro nel tempo questo è il lancio dell'euro i primi anni dell'euro contro il dollaro tutti positivi anche prima del lancio della moneta unica europea a livello di economia normale c'era anche la quotazione per quanto riguarda i primi anni di della di borsa perché gli asset borsistici erano comunque quotati in euro anche se l'euro ancora non circolava come moneta nella unione europea allora tutti anni positivi guardate la struttura ciclica di questa fase sono time frame a una settimana quindi molto molto veloci e in pratica lo lasciamo andare avanti lasciamo proseguire in pratica la crescita di questa fase ok allora ho fatto io per voi andando velocemente avanti ragazzi tutti questi anni siamo arrivati alla 2008 la crisi liman e tutto il resto in questa fase di struttura tecnica tutta questa fase il l'euro contro il dollaro è sempre salito ragazzi guardate che grafico siamo passati da 0 80 a 1 e 5 quasi 1 e 40 e qualcosa è stato un balzo dalla nascita dell'euro del 92 per cento quasi è insomma notevole questa fase rialzista soprattutto una fase in cui l'economia europea era forte molto forte l'italia era molto forte anche nei primi anni del 2000 l'economia era in forte espansione e in generale molte aziende europee erano un leader come nokia anche a livello tecnologico e quindi governavano quello che poteva essere pensato come il futuro tecnologico del del mondo da lì in poi arriva la crisi di man brothers agosto settembre del 2008 nasce bitcoin esattamente nel gennaio del 2009 eccolo qui in questa zona qui nell'anno 2009 e tutta questa fase è in pratica una fase poi dove l'euro inizia il suo forte e declino che ancora non è finito tra alti e bassi rispetto al dollaro andiamo a vedere eccolo qui ragazzi allora tutti gli anni successivi alla fase limana tutti gli anni successivi da lì in poi in pratica solo fase ribassista anche se con una struttura di fase cammello quindi vedete questa struttura di fase cammello ma poi un ribasso dagli abici di 1 e 55 circa di valore di controvalore rispetto al dollaro e poi il declino allora gennaio 2009 nascita di bitcoin in realtà bitcoin nasce come protocollo nell'ottobre del 2008 ma il primo bitcoin minato a gennaio 2009 e quindi abbiamo anche una struttura della creazione della moneta digitale da qui guardate un po questa struttura di del grafico insomma di dell'euro come si è andata ad evolvere è un ciclo da 16 anni questa struttura ciclica ha fatto massimo nella prima parte poi una struttura di minimo e minimo non ovviamente ribassista quindi ancora rialzista ma ma c'è un ma ragazzi questo è un ciclo da 16 anni 5.873 giorni durato sostanzialmente dal novembre del 2000 alla dicembre del 2016 andando avanti negli anni successivi l'euro ha comunque recuperato un po rispetto al dollaro ma nell'ultimo periodo nella fase proprio di questi anni ha iniziato un lento declino tanto è vero che all'inizio di questo anno euro è risceso sotto la parità contro il dollaro per la prima volta dal 2000 quindi da quando era nato sostanzialmente il l'euro prima addirittura di circolare nella nell'europa stessa poi ovviamente nei primi anni era ancora vedete a 0 90 quando iniziato la circolazione ma immediatamente già nell'agosto novembre 2002 era arrivato sopra la parità rispetto al al dollaro quindi dal 2002 da fine anno 2002 in pratica non era mai tornato indietro solo quest'anno per la prima volta è risceso sotto la parità significa in sostanza che un dollaro comprava più euro quindi non solo un euro ma ne comprava 1.3 quindi più euro quindi questo significa debolezza della nostra economia dell'economia europea che cosa è successo nei prossimi anni e negli anni a venire dopo la fase di chiusura di questo ciclo di 16 anni a dicembre del 2016 andiamo a vedere allora ecco cosa è capitato ragazzi allora questa è la struttura attuale del cambio euro dollaro una fase di rimbalzo del ciclo nuovo probabilmente un nuovo ciclo a 16 anni che continua con il suo ovviamente zig zag se non che dopo la questione della pandemia per la prima volta si inizia a scendere guardate sotto la parità quindi qui abbiamo per la prima volta dopo circa 20 anni la discesa dell'euro contro il dollaro al di sotto della parità e questo simbolo anche di come l'economia americana di come la possibilità europee che erano create che c'erano nei primi anni del 2000 sono venute meno sostanzialmente per una serie di motivi competitività a livello produttivo con gli stati uniti che sono mille volte più competitivi tecnologia un baratro immenso dell'europa rispetto ai primi anni del 2000 dove l'europa era forte in tecnologia startup e surclassata completamente dagli stati uniti queste due cose messe insieme ragazzi veramente un disastro è evidente anche nel valore della moneta unica che sempre più si svaluta rispetto al dollaro ma non è finita qui perché la questione va analizzata anche secondo questo grafico rispetto ai concetti teorici dell'analisi ciclica che adesso vi dirò per sancire quello che sono le previsioni viste così ovviamente sempre tra virgolette sappiamo che sono aleatorie sappiamo che una cosa del genere funziona fin tanto che qualcuno non cambia le carte in tavola e le monete sono fortemente manipolate dalle banche centrali e rispettano quello che poi è il sistema economico e le scelte di politica economica delle banche centrali quindi ovviamente l'analisi grafica ha un suo perché se tutto resta uno status quo cioè in questo momento resta tutto uguale probabilmente i trend continuano a evolversi in questo modo ma se invece mettono mano alla politica monetaria ovviamente queste cose possono cambiare però ragazzi è l'unico modo l'unica strada che noi abbiamo per comprendere quello che potrebbe succedere alla moneta unica moneta europea nei prossimi anni e come bitcoin anche l'assesso bitcoin oltre al dollaro può essere anche un modo di salvaguardare quello che è il valore proprio del patrimonio in euro ragazzi perché poi alla fine per gli europei in generale sostanzialmente una svalutazione forte dell'euro contro il dollaro prevede anche che la moneta bitcoin quindi digitale possa in effetti fungere anche da salvaggente anche per un continente abnorme come gli europei come l'europa ragazzi quindi insomma niente di che sia legato diciamo a piccoli stati con problemi infazionistici allora durante in pratica la pandemia la parte finale della pandemia siamo crollati sotto la parità per la prima volta che vedete qui dopo vent'anni poi c'è stato il rimbalzo rimbalzo che coincide con delle strutture cicliche che sono cicli sottostanti in pratica ragazzi sostanzialmente sono cicli da mille giorni che rappresentano un dei cicli di natura triennale quindi tre anni circa e tre quattro anni quindi il mercato lì sviluppa in questo modo queste strutture cicliche hanno una sua una loro naturale scadenza in questa fase nel 2025 attenzione perché da qui in poi iniziamo nella fase della previsione tra virgolette quindi un dovuto disclaimer quello che già vi ho detto dipende tutto dalle banche centrali però l'analisi ciclica ci dà un grande vantaggio poi c'è l'analisi di trend che ci dà un ulteriore grande vantaggio e poi c'è l'analisi del status quo economico dell'europa quali sono le scelte strategiche dell'europa tutte negative in questo momento quali sono i paesi forti dell'europa la germania che era il più forte sta iniziando ad avere problemi perché la problematica dell'energia che si fa finta di niente ma sostanzialmente ha agito nei confronti dell'europa in maniera pesantissima sulla nazione più forte dell'europa cioè il fatto della rottura dei rapporti con l'unione sovietica russia allora a quel punto questi dati queste analisi di natura fondamentali avranno i loro frutti quando oggi domani ieri assolutamente no per i prossimi dieci anni ragazzi perché le politiche e le scelte degli stati hanno impatti decennali non per uno due anni allora qui entriamo nella struttura di previsione la struttura di previsione ci dà due segnali che gli analisti ciclici in questo momento avranno già visto uno la rottura del minimo di partenza di un ciclo da 16 anni questo teoricamente secondo la teoria dell'analisi ciclica vincolerebbe tutto il ciclo da 16 anni al ribasso questo significa che alla scadenza di questo ciclo che è fra dieci anni ragazzi 2033 noi ci dovremmo trovare con prezzi euro dollaro inferiori al minimo di partenza e quindi un andamento stile questo qui in pratica un continuo declino nei confronti del dollaro e quindi una perdita di valore e di forza nei confronti del dollaro quindi questo è la prima cosa che l'analisi ciclica ci dice in maniera evidente quindi se viene rispettata questa analisi sempre aleatoria ve lo ripeto sono previsioni che ci danno un quadro generale non predetele come certezze non sono così sono previsioni ragazzi è appunto aleatorio poi il discorso ma sicuramente se dobbiamo ragionare in termini scientifici statistici è meglio ragionare verso queste analisi piuttosto che su opinioni campate in aria altra cosa importantissima nella struttura dei cicli intermedi è iniziato un ciclo intermedio a settembre 2022 e questo ciclo è probabilmente ha già segnato un suo massimo ora teoricamente potrebbe anche tentare un nuovo a lungo ma è più probabile assistere a una cosa del genere questo significa che nei prossimi anni in pratica noi abbiamo segnato un probabile massimo intorno a 1,12 del cambio euro dollaro e da lì si continuerà a scendere se questa analisi è vera poi appunto avremo altri sottocicli ma inesorabilmente ragazzi per i prossimi 10 anni dovremo assistere tra alti e bassi e zig zag a un prosieguo di questo movimento ribassista fino a un minimo inferiore al precedente che chiuderà i cicli da 16 anni e teoricamente chiuderà anche un super ciclo enorme da 32 anni che comprende tutti questi cicli sottostanti e che ha una informazione ci dà una informazione questo massimo che è stato fatto nella prima parte del ciclo indicherebbe sostanzialmente che questo ciclo deve essere ribassista tutto e quindi un punto di arrivo teoricamente secondo teoria ciclica ve lo ribadisco inferiore anche al punto di partenza in pratica intorno a 0,708 col cambio contro il dollaro quanto è importante un'informazione del genere per gli asset per quello che sono gli investimenti in euro ragazzi che cosa significa significa che tutti i pack creati in euro nei piani d'accumulo rispetto al dollaro saranno negativi che è un edging nei confronti del dollaro forse è essenziale e che quanto è importante la presenza anche di una cripto di come bitcoin ovviamente all'interno di un portafoglio se bitcoin regge il confronto col dollaro potrebbe tamponare una fase del genere e mantenere potere d'acquisto far mantenere potere d'acquisto anche a chi ha euro sul proprio conto voi cosa ne pensate e poi soprattutto un altro interrogativo che più che un interrogativo è anche un po' una sorta di dispiacere ma quale politica strategica sta facendo l'europa rispetto ai suoi più grandi competitor gli americani gli stati uniti da una parte il blocco cina adesso fra un po' russia insomma india eccetera dall'altra che cosa stanno combinando niente non ci sono politiche che pensano al futuro non ci sono politiche che pensano alla competitività non c'è investimento in startup non c'è investimento in tecnologia sembra uno stato lasciato a sé stante un grande stato gigante l'europa è un grande continente lasciato a sé stante cosa ne pensate voi di una questione del genere e soprattutto quanto secondo voi è importante eggiare le proprie posizioni i propri investimenti in euro quanto è importante avere anche una diversificazione valutaria dollaro bitcoin nei prossimi dieci anni vi lascio con questo interrogativo ma scrivetelo nei commenti noi ci rivediamo nel prossimo video buon weekend a tutti grazie a tutti